Questo è l'imitazione naturale, all'origine semola, acqua, c'è un cucchiaio di miele, e un cucchiaio di pane, e questo è tutto, ma ci vogliamo usare, ci vogliamo usare un po' di levitazione. L'acqua non deve essere calda, l'acqua non deve essere mai calda. L'acqua non deve essere calda, l'acqua non deve essere calda, l'acqua non deve essere calda. L'acqua non deve essere calda, l'acqua non deve essere calda. C'è questo tipo di pizza . Che ne ha quello che si chiama il sofaccato della pizza? C'è l'olite faggio tradizionale. E' utilizzato il fettaggio, ma non in pizza. La storia originali non le sessiziano. Ah, sì, poi appena. Prima la pizza e poi le sessiziano. Sì, qui faremo uno da l'esterno parte della Sicilia, che è chiamato Sciccone. È molto soft e molto thick. Dopodiché. Ah, stanno preparando una caccia per il frattempo. Per il final dinner che abbiamo insieme. Il frattempo. Allora, la caratteristica è che il sale non deve mettere sul mare. E la bolla. Non ci sono sali immediatamente, ma dopo. Perché non deve essere arrivato in contatto con le mie. Non ci sono sali. 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 Ci sono sali. Di questo sali. È stato sali. Non ci sono sali. Di questo salio. Grazie. 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 Capiste, bisattacere il girecchio. Anche l'ho. ... ... ... ... ... Sì, quindi... Come puoi sentire? Come puoi sentire? Come puoi sentire? Sì, molto bene Sì, molto bene Sì, molto bene È così talentosa Sì, sì è talentosa Ti stanno dicendo che è un grande donato Ti stanno dicendo che è un grande donato Ti chiamo salto Sì 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 Sì, è abbastanza per tutte le persone che ci sono in questa stanza, questa pizza. Ma bene pizza from this dirt? Ma bene, soprattutto noi che siamo qui. I'm hungry so much, I can eat the whole thing making. If you rise, it will rise again. It will be enough. Stop going. It will be enough. Oh, it's a good thing. But it's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. Oh, it's a good thing. Oh, that's a good thing. Oh, that's a good thing. Go, go. Yeah, some, some, yeah. Just a show. Artist show, some. Oh, man. Can you say it? Oh, good thing. Oh, very nice. Isn't it? You're done. I'm so glad about this. Oh, no, 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 no. Very nice. You're a solid zitiano. Don't shake. Very good. Yeah, very good. Yeah, she's a chef too. Yes. Allora,bare Czyma, Adesso perché dobbiamo fare noi la terminazione dello sfincione, Mettiamo alla fine dell'olio, però nella pizza tradizionale non vanno messa. Ok, now if I did, just a little bit of oil, because we must do afterwards, we will do, we will make a piccione, it is the western, the typical pizza from the western part of the city. But in pizza we don't add the egg, when we say it's pizza, we can use vermentation with oil. Thanks for thinking I'm adding a piccione with oil. I'm with Russia, breathe this Interggak los, we will move the紙 and there is a Brionese coffee. delicaba Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti.